Poteva finire malissimo l'incidente domestico che ha visto protagonista Francesca De Andrè? L'ex geffina è finita in ospedale dopo aver ingerito per sbaglio detersivo scambiandolo per yogurt. L'incredibile episodio è stato raccontato sui social network da Francesca, che nelle scorse ore ha condiviso sulla sua pagina Instagram un post, nel quale si è mostrata nel letto del pronto soccorso. Francesca De Andrè era a Milano nella sua abitazione insieme ad alcuni amici quando è avvenuto l'incidente, che le sarebbe potuto costare la vita. A casa Sereni e tu scambi il bicchiere lasciato lì per sbaglio di detersivo per yogurt. Ho rischiato la morte oggi, ha scritto su Instagram la figlia di Cristiano De Andrè, dando sue notizie ai follower. Forse anche chi si è preoccupato per me quando mi ha vista e sentita stare male e urlare per il dolore delle corrosioni interne ed essere costretta a correre in ospedale, ha proseguito Francesca immortalandosi nel letto del pronto soccorso con il suo cellulare. Su Instagram l'ex Jeffina non è entrata nei particolari dell'incidente domestico e non ha rivelato il motivo per il quale il detersivo, ingerito per sbaglio, si trovava in un bicchiere, ma ha confessato che il sapone ingerito avrebbe potuto perforarle gli organi interni. Il detersivo ha rischiato di performi fegato, appendice, stomaco, l'intestino. Per non parlare degli apparati respiratori e gastrointestinali corrosi, ha proseguito Francesca nel suo post, concludendo con un monito, mi sento di dire state attenti punto soprattutto ai bambini e gli animali che posano averne accesso punto e un attimo. Ora siamo qui, dopo non si sa. Nei commenti al post i fan le hanno manifestato tutto il loro affetto e supporto, ma non è mancata neppure la polemica legata all'accaduto. Qualcuno ha messo in dubbio l'accaduto e gli interrogativi degli utenti si sono moltiplicati nei commenti. C'è qualcosa che non torna nella storia. Per perforare una sostanza chimica deve essere presa in gran quantità e soprattutto lo capisci subito dall'odore. Poi non torna la storia scambio bicchiere yogurt. Uno mette il detersivo nel bicchiere dello yogurt, ha scritto una follower, che poi ha augurato comunque una pronta guarigione a Francesca De Andrè. Più duri invece i commenti di altri utenti, forse ti stavi preoccupando a fare selfie o TikTok e ti sei distratta. Neanche una creatura di 10 mesi si sbaglia a bere yogurt o detersivo. Ma per favore va! L'ex Jeffina non ha risposto ai commenti più critici ma è probabile che lo faccia nei prossimi giorni quando si sarà ripresa. E voi cosa ne pensate?